Buonasera a tutti da Earthmajord, ancora un video questa sera per parlare del Duomo in realtà saranno diversi e numerosi i video che parleranno del Duomo perché questo ha alcune caratteristiche fondamentali che non sono così facili da afferrare, da descrivere, da discutere e richiedono quindi di andare a spezzare l'argomento in più parti di modo che voi possiate afferrare meglio, io possa spiegare meglio e si riesca così a capire bene qual è il modello io vi farò vedere nel prossimo video poi un disegno un po' più dettagliato di quella che potrebbe essere l'architettura del Duomo uno schema della terra piatta, l'architettura della terra piatta con sopra il Duomo e come questo è strutturato ed è fondamentale capirlo bene per capire alcuni effetti che la rotazione del Duomo produce la domanda però a cui vogliamo rispondere in questo video è come fa il Duomo a ruotare in realtà non vedremo in questo video la causa della rotazione ma come può esso, come possa esso ruotare dato che potrebbe, dati gli attriti come fa a girare sulla terra, come è messo sulla terra, come è incastonato ci sono delle ruote che gli permettono di girare ripeto, non vedremo in questo video che cos'è che lo spinge quello lo vedremo poi più in là allora, per capire questa cosa cioè come fa il Duomo a ruotare dobbiamo vedere una cosa, un aspetto che introduco andandovi a leggere sempre dalla Bibbia perché ci descrive bene una cosmologia avente la terra piatta in Giobbe, capitolo 26, vecchio testamento Giobbe, capitolo 26, al versetto 7 qua dice Egli distende il nord sullo spazio vuoto sospende la terra sul nulla quindi la terra è sospesa sul nulla che cosa significa questo? ebbè, una sospensione le sospensioni pneumatiche dei TIR per esempio quindi sono degli elementi elastici che agiscono sull'aria l'aria va a sospendere un elemento meccanico in questo caso la sospensione tiene su la terra quindi la terra dovrebbe essere avvolta da un cuscino d'aria ma cosa significa? come possiamo andare a descrivere meglio? ebbene, la terra è un piano un disco piano vedremo poi bene in seguito il fatto che sotto c'è un bacino ferromagnetico di forma semisferica quindi un piano un bacino ferromagnetico semisferico che la sostiene da sotto e che crea una cavità il nord è sul vuoto dice Giobbe in effetti sotto il polo nord c'è una grossa cavità che è vuota ma poi viene riempita d'acqua e sopra in corrispondenza di questo bacino c'è un primo una prima cupola che è fissa quella non ruota è trasparente quindi in materiale vitreo è fissa è uno statore quindi quella è appoggiata su questo grosso bacino e quindi alla fine abbiamo la costruzione di una sorta di sfera con la terra che non è la sfera ma la terra è un piano è il piano di metà poi come facciamo a dire che il duomo ruota il duomo ruota perché vediamo le stelle ruotare e le stelle sono tutte sempre fisse sul duomo e ruotano mantenendo sempre esattamente nel corso dei millenni le stesse distanze per esempio ci sono delle descrizioni dell'antichità che descrivono il grande carro l'orsa sarebbe l'orsa maggiore quindi nei millenni questa e questa costellazione si è preservata è evidente dunque che queste stelle non si muovono relativamente una rispetto all'altra ma si muovono fisse incastonate in un duomo che non è questo statore che è fisso è appoggiato alla terra la protegge e la racchiude ma questo è un rotore ulteriore una cupola ulteriore che si comporta da rotore ruota e è distanziata dal rotore fisso da uno spazio vedremo di parecchie migliaia di chilometri in cui è contenuta puramente aria quindi c'è una sfera che poi continua anche sotto con un ulteriore bacino anche questo distanziato dal bacino ferromagnetico da uno spessore da un uguale spessore di aria e quindi questa parte ruota come fa la terra fissa ad essere sospesa in mezzo a questo bacino rotante ebbene questo lo vedremo poi perché in effetti il cuscino d'aria non sarebbe sufficiente a sospendere la terra nel nulla cioè sull'aria vedremo poi se c'è veramente aria o se c'è qualcos'altro lì dentro in realtà c'è etere e vedremo come l'etere in effetti è la causa che consente alla parte centrale di essere sospesa e ferma fissa all'interno di questo rotore esterno invece che gira e che mette in rotazione l'etere intero quindi alla fine abbiamo capito che il duomo è costituito da due parti uno statore interno un rotore esterno la parte che ruota è il rotore molto più grande distanziata di diverse migliaia di chilometri dallo statore e che quindi può ruotare senza attrito senza frizione alcuna grazie al fatto che c'è un cuscino io lo chiamo cuscino d'aria in realtà è un cuscino di etere quindi l'attrito non è neanche quello di tipo viscoso che potrebbe produrre l'aria ma l'etere è un mezzo molto più sottile che produce una spinta tale e vedremo come questo è possibile che sostiene quindi la parte centrale in mezzo poi questa l'intera struttura non è da sola e questa l'intera struttura si viene a trovare sostenuta e sospesa in un'enorme piattaforma in cui ci sono diverse altre terre ma queste cose le vedremo poi avremo tempo un concetto era quello che vi volevo dare del rotore che ruota attorno allo statore distanziato da esso di una certa quantità quindi la terra la nostra terra in cui viviamo è sospesa nel nulla va bene un'idea ve l'ho data si aggiungono sempre nuove informazioni spero che vi piaccia che vi interessi se voi guardate i miei video dall'inizio fino alla fine vedete un castello che si costruisce un modello incredibile un modello di terra piatta che nessun altro e non perché io l'abbia costruito io personalmente non è merito mio comunque nessun altro è in grado di darvi un modello simile vi ringrazio per l'attenzione iscrivetevi ciao a tutti e buona serata